Siamo in compagnia degli LPDM, un gruppo vastese che di recente ha presentato il nuovo singolo Quello che penso di te. Innanzitutto chi siete e come vi siete conosciuti? Allora, buongiorno, noi siamo un gruppo vastese e ci conosciamo praticamente da sempre. La band è nata tra i banchi di scuola intorno al 2015-2016 e è cominciato tutto per gioco, diciamo, suonavamo così per divertirci e dopo piano piano abbiamo cominciato a prendere parecchie serate, tante serate in giro per i locali e piano piano abbiamo cominciato a suonare dal bianco. E che cosa vi accomuna nella musica? Ci accomuna prima di tutto... La voglia e lo spinto. Sì. Di scrivere, di andare a suonare per i locali. E in più, cioè, avendo fatto il musicale, sono tanti anni che stiamo in quest'ambiente e quindi ci troviamo bene, ci divertiamo. Da dove arriva l'ispirazione per questo nuovo singolo, quello che penso di te? Com'è nato il testo? Allora, il testo è nato, diciamo, tutto in una sera. L'ho scritto praticamente col cellulare, sul telefono, via WhatsApp, l'ho mandato al signorino qua. E' nato così. Ovviamente parla di una storia che ho vissuto in prima persona e poi, ovviamente, come in tutte le canzoni, cerco di metterci anche qualcosa... Come posso dire? Non faccio... Cioè, tutta la canzone non la faccio mia, praticamente. Ok, cerco... Voglio lasciare agli altri anche un messaggio, un piccolo spazio, sì, anche... Ognuno ci vede quello che vuole, come ti dicevo prima. E quali sono i vostri progetti per il futuro? I progetti per il futuro sicuramente sono... Il primo è quello di continuare con i nostri brani inediti, quindi sicuramente non ci fermeremo a questo e andremo avanti, penso, fino a fine giugno dovrebbero uscire almeno altre tre, quattro canzoni. Più o meno. Quindi il primo obiettivo è quello. Dopo continuiamo a fare le serate come cover band, perché comunque ci diverte. Noi facciamo un grosso in bocca al lupo e, appunto, buon lavoro. Grazie a voi, grazie mille, grazie. Mario Conti, voce e chitarra acustica. Niccolò Perrozzi, chitarra elettrica. Matteo Colameo, basso. Eliado Video, batteria. Salutiamo Giuseppe Aquilano, che non è qui presente e sta studiando a Milano, ed è la seconda chitarra del gruppo. E' un'abitudine, che torni sempre da me, e non mi frega un cazzo sai perché.